Ok, per questo esercizio partiremo in posizione di quadrupedino, da qua manteneremo sempre la parte lombare in oltre, continueremo di correre, con la mano apposta andremo a correre sotto l'altro braccio, ruotando sulla colonna, la spalla andrà verso il basso e poi ritornare in posizione di quadrupedino. Cercate sempre di compiere quanta più strada possibile senza perdere l'allineamento.